A seguito dell'ordinanza numero 45 dell'8 maggio 2020 della Regione Campania, a decorrere da lunedì 18 maggio e fino a nuove disposizioni e a seguito di un riposizionamento temporaneo degli operatori, è consentita la ripresa delle attività mercatali, limitatamente alle attività dirette, alla vendita di generi alimentari e fiori e piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le linee guida sulla misura di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari approvati dalla Regione Campania. Potranno dunque riprendere l'attività ai mercati diretti alla sola vendita di generi alimentari osservando i seguenti orari. Piazza Merola dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 14. Via della Libertà dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 14.